Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Sono stati arrestati la scorsa notte dalla polizia di Stato che ha fermato una Fiat Punto con targa polacca e ha messo le manette ai polsi di due soggetti ritenuti responsabili di oltre 10 danneggiamenti e i danni degli autobus di trasporto pubblico napoletani ANM. Le attività intrapresi a seguito dei citati fatti delittuosi avvenuti tra il 23 e il 24 gennaio hanno consentito al personale della squadra mobile e all'Ufficio Prevenzione Generale di individuare la predetta autovettura che ieri sera è stata rintracciata dagli operatori in via Salvatore Rosa con a bordo i due individui. A seguito del controllo esperito all'interno del veicolo è stata rinvenuta l'arma utilizzata per il ride una pizzola soft air munita di caricatori a rifornimento con tre pallini di 6 mm un barattolo con circa 900 pallini dello stesso calibro sette bombolette di anidride carbonica per consentire il funzionamento dell'arma uno sfollagente telescopico in acciaio e due proiettili a salve. Nel proseguo dell'attività è stato anche sequestrato un coltello a farfalla occultato all'interno di un marsupio. I due identificati, un 28enne e un 34enne, entrambi napoletani, sono stati denunciati per i reati di abuso di porto d'arma abusivo, danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti in quanto ritenuti responsabili di ben oltre 10 danneggiamenti al parco autobus Il segretario della CGL, Nicola Ricci, si è recato stamane a Bosco Trecase per fare visita ai medici e agli operatori sanitari dell'ospedale, da tempo riunitesi nel comitato Ciavitacisa a salute, costituito per la riapertura del pronto soccorso del nostro comio vesuviano. Per il segretario della CGL i cittadini non vanno abbandonati, ma c'è la sensazione in questo territorio vesuviano di una totale disattenzione da parte della politica e delle istituzioni. È un dovere civico e morale da parte del sindacato stare insieme, in vicino al comitato. Così, Nicola Ricci, ai nostri microfoni. Sì, i cittadini non vanno abbandonati perché c'è questa sensazione in queste nostre zone che i cittadini siano abbandonati dalla politica e da istituzioni. È un dovere morale nonché civico stare qua insieme a loro, sposare in prima linea questa battaglia, che è una battaglia per il diritto alla salute, in difesa dei diritti, in difesa di un'area che esprime 200.000 abitanti a cui non possono essere tolti i servizi essenziali. La salute e il lavoro sono gli elementi essenziali. Saremo qua, concorderemo iniziative, daremo sostegno, ci mettiamo la faccia, ma non serve solo la faccia, serve le iniziative e siamo disposti anche verso la regione Campania e verso anche questo governo che pensa a Italia e non pensa al sud di mettere in campo insieme a loro iniziative concrete. Serata di grande musica all'auditorium Porta del Parco di Bagnoli con il concerto per pianoforte del maestro Andrea Bacchetti che ha eseguito per il secondo appuntamento di base per altezza il concerto Joan Sebastian Bach, variazioni Goldberg. Anche per questo secondo evento realizzato con il contributo del Comune di Napoli nell'ambito del progetto Napoli Città della Musica e organizzato dalla Digital Radio, Audio Live FM, Musica e Cultura, c'è stata un'ottima risposta del pubblico. Soddisfazione nelle parole della direttrice della Digital Radio, Rosanna Astingo. Siamo veramente contentissimi di questo grandissimo affetto da parte del pubblico che sta rispondendo veramente con grande entusiasmo a base per altezza. Per noi è un nuovo modo anche per fare radio, per fare divulgazione, perché Audio Live FM nasce proprio per questo, nasce per portare cultura e bellezza ad un pubblico vasto, lo fa attraverso la radio e la radio che arriva al grande pubblico e speriamo lo faccia ancora per il resto della rassegna. Il prossimo appuntamento è in cartellone. Il prossimo appuntamento è il primo febbraio con Bella Dio, un recital tutto al femminile sul testo di Anita Pesce con delle musiciste straordinarie sul palcoscenico e poi insomma si va ancora avanti con appuntamenti veramente imperdibili e speriamo che il pubblico continui ad apprezzare. Cinque concerti, cinque momenti per esplorare generi musicali disomogene eppure collegati tramite linguaggi e forme espressive non coincidenti alla scoperta dell'alfabeto musicale di base su cui si fonda l'altezza dell'arte. Stefano Valanzuolo, consulente artistico di base per altezza, analizza la performance del maestro, Andrea Bacchetti. Lui è uno specialista per quanto riguarda questo repertorio, per quanto riguarda questo brano, in particolare questo pezzo che è un pezzo storico evidentemente, e là il senso della manifestazione è questo, è quello di fornire appunto le basi ove possibile della musica, ovviamente in un periodo brevissimo, in un arco temporale ristretto e con cinque soli eventi a disposizione, però un po' le basi della musica, quelle che servono, cioè quelle coordinate che servono per aggirarsi in un contesto che è sempre più articolato e allora per quanto riguarda l'ambito classico ci sono due concerti che devono un po' fornire proprio le vocali e le consonanti, quindi l'alfabeto della musica e sono tutte e due riferibili a Bach, quest'anno riferibili a Bach, poi magari l'anno prossimo si sceglierà un altro di autore e dunque sono le suite di Bach per violoncello, non tutte e sei ma almeno tre, anche in quel caso con una specialista come Enrico Peccotti e appunto il concerto di questa sera, in cui ci sono le variazioni Goldberg eseguite da Bachetti. Negli ultimi tempi prevaleva un po' la logica del famolo strano, per cui bisognava fare qualche cosa di bizzarro, di contaminato a tutti i costi e invece no, invece si può richiamare il pubblico, un pubblico intelligente, evidentemente un pubblico consapevole, soprattutto lo si può richiamare attraverso nozioni basilarie, cioè quello che uno pensa che sia sodato è come vado a sentire un'altra volta le suite di Bach, come vado a sentire un'altra volta le variazioni Goldberg, sì, anche perché non è un'altra volta, perché così facendo mica si fanno tanto spesso e poi fosse anche un'altra volta, beh ce ne fossero insomma. Il Rotary Club Napoli Chiaia con il suo presidente Paolo Manieri, in Interclub con il Rotary Club Capri, con il suo presidente Maria Teresa Stile, ha organizzato un interessante incontro con il presidente dell'Unione Industriale di Napoli, Costanzo Iannotti Pecci. Ho accolto con grande piacere l'invito del Rotary Chiaia per venire qui a ragionare insieme ai soci del club del ruolo dell'imprenditoria Napoli nel Mezzogiorno, un ruolo che in questi tempi soprattutto è particolarmente impegnativo ed è anche carico di responsabilità sociale per quello che gli imprenditori possono e devono fare non solo sul versante economico ma anche di quelli che sono gli aspetti sociali che caratterizzano in maniera del tutto particolare Napoli, la Campania e il Mezzogiorno. Tra gli argomenti della serata, essere oggi imprenditori a Napoli e nel Mezzogiorno, le difficoltà imprenditoriali e il costo del denaro per le imprese, più alto rispetto a quelle del settentrione. Erano presenti numerose autorità rotariane, ospiti, una folta presenza di soci tra cui il dottor Francesco Tavassi, presidente del gruppo Temi SPA, la dottoressa Stefania Brancaccio, segretario nazionale UICD della dottoressa Miriam Clemente, dirigente dell'Agenzia delle Entrate, Roberto De Laurentiis, presidente del consorzio antico Borgorefici, il dottor Pierluigi Petrone, vicepresidente di Farma Industria e il PDG Salvatore Giovieno, nonché l'ingegnere Enzo Delia, ingegnere industriale. Buonasera, sono Paolo Manieri, presidente del Rotary Chiaia e questa sera avremo come conversazione, come argomento della serata l'imprenditoria nel meridione, cosa comporta e come si può sviluppare e il nostro conversatore, illustri conversatore sarà Costanzo Iannotti Pecci che ha una lunga esperienza in questo, anche essendo stato presidente dell'Unione Industriale e affronteremo un po' i temi principali sui quali prendere spunto per il futuro. Buonasera, Maria Teresa Stile, Rotary Club Isola di Capri, sono la presidente per quest'anno Rotariano e questa sera ho il piacere, onore di unirci in Inter Club con il Rotary Club Chiaia, con il presidente Paolo Manieri e in questa veramente brillante iniziativa appunto in Inter Club. Un'iniziativa che vede tra l'altro coinvolti il presidente dell'Unione Industriale di Napoli e chiaramente Costanzo Iannotti Pecci che ci parlerà proprio della complessità dell'imprenditoria soprattutto napoletana oltre che del mezzogiorno oggi in un mondo che certamente vede un'economia cambiare soggetta al continuo divenire, alla continua trasformazione nell'ottica proprio di un nuovo modello di impresa orientato, focalizzato e indirizzato tutto ad una essenziale crescita sostenibile. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci. Grazie.